Cigep 2020, ci troviamo allo stand di Bravilò Bonamà, un'azienda olandese che ha una lunga storia che ora ci facciamo spiegare dal Country Manager Italia, Marco Rodi. Marco, benvenuto dinanzi agli schermi di OrecaTV.it. Grazie Fabio, buongiorno. Bravilò Bonamà è un'azienda che da 72 anni produce attrezzature per l'Oreca sostanzialmente, quindi noi siamo partiti con attrezzature dedicate al mondo filtro, caffè filtro, abbiamo inserito dagli inizi degli anni 80 tutto quello che era il mondo delle macchine solubili e stiamo andando avanti ancora nella progettazione e nell'innovazione di questa categoria di prodotto per poi arrivare alle superautomatiche con diverse opzioni, quindi linea OCS o linea hotellerie. Che cosa presentate in questa 41esima edizione di Cigep? Abbiamo due grandi novità, la prima è una superautomatica dalle dimensioni molto contenute, simile a una macchina capsule, quindi per tutti quegli ambienti che vogliono andare a ridurre il consumo di plastica, quindi capsule o cialde e poi abbiamo innovato il nostro cavallo di battaglia, quindi il mondo delle solubili andando ad aggiungere un importante elemento che è la telemetria. Quindi sempre di più ormai ci è richiesto un controllo da remoto, bisogna aiutare i nostri distributori o concessionari nell'avere una gestione più semplice di quello che è l'intervento di manutenzione sia preventiva che ordinaria, quindi sia in casi in cui si possano generare delle problematiche improvvise. Qual è il vostro target? Rimenditori, concessionari o clienti finali? Sicuramente le nostre sono attrezzature che vanno maneggiate da professionisti, quindi concessionari e rivenditori sono assolutamente il nostro obiettivo principale. Siete qui, oggi siamo ormai al quinto giorno, per ricercare nuovi concessionari e rivenditori in Italia, suppongo. Sì, è una grande sfida l'Italia per un'azienda che ha una concezione nordica, noi ormai siamo presenti in 12 nazioni con delle filiali dirette, l'Italia è una delle ultime aggiunte e ci siamo presentati un po' in punta di piedi per imparare una grande cultura che è legata al mondo dell'espresso ma anche per proporre quelle che sono un po' le nostre peculiarità e caratteristiche che ci hanno reso famosi in altri paesi. E allora per tutti coloro che sono dall'altra parte e non hanno avuto tempo o modalità di essere qui a Rimini e al SIGEP o passare per il vostro stand, qual è l'indirizzo di posta elettronica da poter fornire per scrivere, richiedere maggiori informazioni e chissà iniziare una collaborazione con Bravilor. Allora sicuramente ci potete trovare nel nostro ufficio di Assago, provincia di Milano, il contatto è info.it chiocciolabravilor.com, potete scriverci e tutte le informazioni sono molto trasparenti quindi le trovate già sul sito internet. Benissimo, grazie Marco per il contributo, ci rivedremo a Venditalia 2020. Sicuramente, grazie a te. Ciao.